L'Europa sta perdendo attrattività nel suo complesso. Vari paesi stanno scalando posizioni, la Francia, la Spagna, la Svezia, e questo è un segnale preoccupante, è un segnale che da un lato risente della ricollocazione, diciamo così, delle attività produttive e della dinamicità del resto del mondo, ma dall'altro è anche un segnale di preoccupazione che infatti richiede politiche diverse. In particolare i flussi di investimento diretto si sono spostati verso l'America del Nord e l'ASEAN.